Cosa incredibile perché qui stiamo parlando non di un piccolo comune, ma di un comune di 210 mila abitanti, dove il sindaco, il sottoscritto, eletto dopo due anni e mezzo, è stato mandato a casa in una notte, in una congiura di palazzo, con le firme raccolte davanti al notaio e presentate alla mattina, proprio il giorno in cui c'era la manifestazione di Firenze, in cui c'era Parisi a Padova. Coincidenze? Ma io direi assolutamente no. Quello incredibile è che due consiglieri di Forza Italia abbiano mandato a casa il sindaco insieme al PD, insieme a Cinque Stelle. Mi pare una cosa che non si deve fare, non si può fare. Però io ho letto che li hanno sospesi questi due signori da Forza Italia, quindi vuol dire che il partito a livello nazionale non è d'accordo. Guardi, io sono stato ospite di questa trasmissione più volte e ci conosciamo bene. L'amministrazione è un'altra cosa, governare le città è già molto difficile. Poi se si mette continuamente in mezzo la politica di palazzo e queste cose, come si fa a mandare una città di Moepadova a un commissariamento di sei mesi? A parte che hanno sbagliato i tempi, perché a maggio del prossimo anno si vota e per fortuna che in questi due mesi avevo mandato in gara tutta una serie di opere pubbliche, per cui non si fermerà assolutamente niente. Io mi ricandido e mi ripresento. Secondo lei il regista della sua cacciata è l'Avvocato Ghedini? Ma questo non lo posso dire, è che la sera in cui c'è stato questo fattaccio il commissario cittadino, parlando con il nostro segretario nazionale da Re, ha detto chiaramente che aveva la delega di Berlusconi. Quindi adesso i comunicati stampa fatti prima o dopo, chi conosce bene la politica sa benissimo che sono delle giustificazioni che non servono, sono i fatti reali. Io voglio dire una cosa... che doveva dare il suo messaggio contro la Lega Nord. Però i cittadini non sono stupidi, io mi ripresento assolutamente anche da solo, anche con le liste civiche, perché l'importante è amministrare bene, non le beghe di palazzo.